Caso Bari, Antonella Laricchia attacca Emiliano, così rischia di rafforzare la mafia, dice l'ex grillina. Intanto al Comune il Movimento 5 Stelle presenta il protocollo sulla legalità. Addio a Simeone di Cagnobrescia, l'ex sindaco di Bari si spegne dopo una lunga malattia, aveva 80 anni. Barletta si prepara al G7 e non solo, per la città della disfida si prospetta un aprile impegnativo tra sport ed eventi. Bentornati con un nuovo appuntamento dell'informazione di Antenna Sud, apriamo la nostra pagina come di consueto dedicata alle province di Bari, Labatt e Foggia. Apriamo con la politica in particolare e andiamo a Palazzo di Città nel capoluogo dove il Movimento 5 Stelle ha presentato il suo protocollo per la legalità. Sentiamo. Impegno etico dei candidati, Vade Mecum per gli elettori, impegno delle singole liste ad una scelta etica dei rappresentanti di lista, spesso oggetto della problematica del voto di scambio. Un'azione centrale post voto, la creazione di un codice etico denominato Carta Adriatica, perché Bari deve avere un suo codice etico nato dall'esperienza che abbiamo avuto. Un protocollo sulla legalità per le comunali che verranno ma senza dimenticare quello che è accaduto, il Movimento 5 Stelle a Bari lo presenta ai candidati Davito Leccesi e Michele Laforgia, compreso, stilettano, il signor Adoras alla guida del centrodestra, ancora senza un profilo e riavvolgendo il nastro sui provvedimenti proposti e non approvati finora. Abbiamo chiesto l'istituzione del tavolo della legalità per ben due volte, bocciato, abbiamo chiesto la sottoscrizione di un codice etico, bocciato. Pertanto dopo le dichiarazioni dei candidati sindaci alle primarie del 7 aprile, le dichiarazioni di Michele Laforgia, Vito Leccesi. Non abbiamo convocato questa conferenza stampa solo per dire ve l'avevamo detto. Gli atti che abbiamo in un certo senso presentato in questi anni parlano per noi. Siamo qui per dirvi attraverso questo protocollo ve lo stiamo ridicendo alla maniera del Movimento 5 Stelle. Insomma niente lezioni di legalità rivendicano nonostante il centrodestra contesti alla patuglia di non aver fatto fronte comune sulla richiesta di una monotematica in aula sul terremoto giudiziario e nonostante le parole di Antonella Laricchia che evoca il Movimento delle origini sugli alleanze. Rispondiamo che il Movimento da sempre è stato sinonimo di garanzia. Ovunque ha governato è stato comunque il sigillo di denominazione di origine controllata della politica. Attacca il governatore della regione Puglia Michele Emiliano e non risparmia il Movimento 5 Stelle. Sono parole dure quelle usate dall'ex consigliera regionale Antonella Laricchia sul caso Bari. Sentiamo. L'aneddoto raccontato da Michele Emiliano sul palco della manifestazione antimafia Bari è sconcertante. Tuona così Antonella Laricchia, l'ex consigliera regionale delusa dalla politica e fuori dalle scene per scelta già da diversi mesi ma non riesce a trattenere il moto di sdegno per quanto accaduto sul palco di Piazza Ferrarese a Bari lo scorso 23 marzo. In particolare per le parole di Michele Emiliano Laricchia attacca il governatore della Puglia. Quel tipo di atteggiamento molto comune dalle nostre parti rischia di rafforzare il potere della mafia perché un amministratore per garantirsi l'ordine pubblico si rivolge ai boss e chiede loro di fatto di tenere la situazione sotto controllo. Questo avrebbe fatto insorgere il Movimento 5 Stelle delle origini. Allo stesso tempo l'ex consigliera regionale colpisce anche il Movimento 5 Stelle in cui per molto tempo ha creduto. Lo avevo detto, sferza Conte, Di Maio e anche Crimi e indossa una maglietta sulla sua pagina social. Sono vassalli della cattiva politica per qualche poltrona in più. Io avevo detto a tanti vertici del Movimento 5 Stelle, a Giuseppe Conte, a Vito Crimi, anche a Luigi Di Maio quando era nel Movimento 5 Stelle che Michele Emiliano non era un partner affidabile, non rappresentava un modo di fare politica compatibile con i valori del Movimento 5 Stelle. Oggi i nodi sono venuti al pettine e purtroppo il Movimento 5 Stelle è alleato di queste persone qui. Si spegne Simeone Di Canio a Brescia. L'ex sindaco di Bari muore all'età di 80 anni dopo una lunga malattia. Due volte sindaco, nell'epoca d'oro del centrodestra, è stato anche presidente di Acquedotto Pugliese. Bari perde Simeone Di Canio a Brescia. Aveva 80 anni ed era malato da tempo. Imprenditore del settore immobiliare, due volte primo cittadino sotto le insegne azzurre e lui a vincere al primo turno le prime elezioni comunali a suffragio diretto nel 1995. E' sempre lui che, quattro anni dopo, viene riconfermato in fascia tricolore contro il centro-sinistra a trazione DS di Beppe Vacca. L'epoca d'oro del centro-destra a trazione tatarelliana, lo stesso che porterà il filosofo Franco Sorrentino in provincia e poco dopo il prof Salvatore di Staso in regione. A fine mandato i tempi sono cambiati e Luigi Lobuono non riesce a raccoglierne il testimone lasciando le chiavi a Michele Emiliano. Simeone, come lo chiamano in città, gli lascia in eredità il finanziamento europeo del piano urban nato nel 1994 per recuperare le aree difficili di 118 città europee con 900 milioni di euro. Tra le 16 città italiane, quattro sono pugliesi, compreso il progetto per la completa riqualificazione di Bari Vecchie e del suo trascurato patrimonio da 8.000 abitanti. Nel 2006 corre alla Camera da deputato, nel 2008 la riconferma, un anno dopo sarà richiamato in città per provare a impedire il bis di Michele Emiliano, il miglior sindaco di Bari e il suo claim, ma non ce la fa. Eppure tra i due non c'è una voragine, tanto che quasi dieci anni dopo si ritrovano nella stessa metà campo. Emiliano in regione da presidente, Simeone alla guida di Acquedotto Pugliese per volontà dello stesso governatore e il suo ultimo incarico pubblico, un'anime ore, il cordoglio delle forze politiche. Un'azienda che lavora quotidianamente con attenzione su questo bene primario. Noi distribuiamo un bene del quale la popolazione, l'umanità non può farne a meno. Quindi questo è lo spirito che ci spinge ogni giorno a lavorare nell'interesse delle nostre popolazioni. C'è una nota del comune di Bari di cui vi do lettura, sarà allestita dalle ore 14 di questo pomeriggio fino alle 20 e dalle ore 8 alle 10 di domani nella sala consigliare di Palasso di Città, la camera ardente aperta a tutti coloro che vorranno porgere l'ultimo saluto a Simeone di Cagno a Brescia. I funerali invece si svolgeranno domani, sabato 30 marzo, dalle 10.30 nella Basilica di San Nicola. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, ci occupiamo della cronaca, andiamo a Foggia dove una 98enne è stata colpita alla testa e avvelenata. È stata arrestata la sua badante per tentato omicidio. È stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio la 60enne di origini magrebine che all'alba dello scorso 7 febbraio ha aggredito Angiolina Rossetti, la 98enne di cui si prendeva cura all'interno dell'appartamento di quest'ultima. In via di amici si affoggia per poi tentare il suicidio. Secondo quanto emerso dagli accertamenti sanitari e ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe dapprima colpito l'anziana con un corpo contundente, probabilmente un soprammobile, per poi obbligarla a ingerire un liquido corrosivo di quelli comunemente usati in casa per le pulizie. Lo stesso che avrebbe ingerito a sua volta subito dopo. Allertati dai vicini di casa che avevano udito urla e strani rumori provenienti dall'appartamento, gli agenti di polizia giunti sul posto hanno trovato entrambe le donne riversi a terra e prive di conoscenza. L'anziana con evidenti traumi alla testa, trasportate d'urgenza al Policlinico Reuniti di Foggia, le donne sono state ricoverate in prognosi riservata per varie settimane, ma ad oggi sono del tutto guarite. A quanto si apprende, alla base del tentato omicidio non ci sarebbe un movente specifico, né in passato si erano verificate situazioni che potevano addestare sospetto o preoccupazione. Gli inquirenti piuttosto stanno vagliando il delicato contesto sociale e psichico riferibile alla donna accusata del reato. Paura a Carbonara, quartiere di Bari, ieri intorno alle 6 di questa mattina all'alba c'è stata una sparatoria in piazza Umberto. Restano feriti due giovani non in pericolo di vita, si sta occupando della ricostruzione di quanto accaduto la squadra mobile. Adesso invece ci spostiamo a Trani, anzi no, ci spostiamo a Barletta. In occasione del G7, la città della disfida si prepara, ma quello che si prospetta sarà un mese molto intenso anche per gli eventi dedicati allo sport e all'inclusione sociale. Sentiamo. Non soltanto il G7 e gli eventi correlati al vertice internazionale di Borgo Ignazia, Barletta concentra la sua attenzione sull'accoglienza riservata ai capi di Stato presso il Castello Svevo, ma strizza l'occhio anche agli altri appuntamenti che caratterizzeranno i prossimi mesi a partire dallo sport di aprile con il ritorno del tennis in via del santuario e del ciclismo con il Giro Mediterraneo in rosa. L'inclusione sociale e la promozione del territorio al centro dei progetti dell'amministrazione comunale anche passando dalle scuole e dalle giovani generazioni. Abbiamo anche numerosi eventi nel mese di aprile, abbiamo appunto il Giro Rosa del Mediterraneo, abbiamo quattro giornate di giochi studenteschi, insomma abbiamo un'infinità di attività agonistiche o inclusive o che insomma valorizzano il nostro territorio per cui siamo veramente sommersi di tanto lavoro. Estate in fase organizzativa con gli eventi musicali previsti nel fossato del Castello Svevo da Gigi D'Alessio a Biagiantonacci passando per i Pù e attendendo sviluppi sul consueto appuntamento di settembre con la rievocazione storica della disfida, la Bata e i cittadini ripongono grandi aspettative nel 2024 di Barletta. Restiamo sempre nella sesta provincia, andiamo adesso a Trani dove dopo solo un anno di vita il teatro all'aperto potrebbe essere già smantellato. Sulla vicenda monta già la polemica politica con l'affondo di Fratelli d'Italia che parla di uno spreco di denaro pubblico. I dettagli. Sorte incerta per il teatro Penel di Trani, inaugurato l'anno scorso, potrebbe essere già smantellato nelle prossime settimane a causa di abbandono e ripetuti fenomeni di vandalismo. Proprio in queste ore, infatti, è iniziata l'attività di rimozione dei teloni di copertura della struttura e la pulizia interna della stessa dei rifiuti. A darne la notizia il primo cittadino, Amedeo Bottaro, scatenando così le critiche di diversi esponenti politici che hanno parlato di uno spreco di denaro pubblico. Questa scelta è evidentemente infelice e costata anche 40.000 euro la collettività. Tra l'altro non è la prima volta che il Duc decide degli interventi che sono a quanto discutibili. Penso, ho fatto riferimento anche a quei murales, quelle grafiche applicate qualche mese fa in Piazza 20 Settembre piuttosto che nei pressi di Villa Telesio. e mi chiedevo come questi interventi possano, sempre costati alla collettività, migliaia di euro, possano di fatto aver contribuito al commercio. A spiegare le ragioni alla base della scelta della realizzazione della struttura, il distretto urbano del commercio, promotore dell'iniziativa, che ha stigmatizzato comportamenti incivili e ha invitato ad una maggiore collaborazione i commercianti. Sono anche mortificato dal fatto che dai commercianti mi sarei aspettato, che so, 100 euro a testa, faccio una serie di eventi e lo vivo, lo tengo vivo, perché io credo che anche tutto il quartiere, se non soltanto i commercianti ma i residenti, avrebbero dovuto considerarlo proprio e far sì che in questa struttura ci si muove, ci si animasse, facendo una serie, un programma intero di iniziative. E sarà presto chiuso al traffico veicolare in maniera definitiva il centro storico di Biceglie. Questo spiega il sindaco, Angelo Antonio Angarano, per dare alla città un'idea di sostenibilità e proiettarla nel futuro. Abbiamo sentito però che cosa ne pensano i cittadini. Zona a traffico limitato nel centro storico di Biceglie in via definitiva H24, ossia per tutti i giorni feriali e festivi, a partire dall'estate in maniera definitiva. Dunque, fine pena mai, per gli abitui delle quattro ruote, le nuove modifiche entreranno in vigore entro 60 giorni dall'adozione di un'ordinanza sindacale che sarà firmata a rientro dalle festività pasquali. È una rivoluzione perché finalmente si dà ordine e sicurezza maggiore al centro storico. Chiaramente all'inizio ci saranno problemi perché abituarsi a nuove soluzioni porta sempre delle criticità, ma io sono fiducioso. Noi per esempio abbiamo un'attività appena all'uscita del centro storico e diamo il servizio del domicilio e per noi sarebbe davvero una complicanza. Il primo cittadino punta sul piano urbano della mobilità sostenibile che nell'arco temporale di medio-lungo periodo, dieci anni all'incirca, dovrebbe sviluppare una visione di sistema della mobilità proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Nel centro storico negli ultimi anni si è attuata una vera e propria progettualità di revisione totale con la nuova illuminazione, con i tanti lavori che lo stanno interessando, l'ultimo quello con il rifacimento completo delle strade principali con nuove basole. Per noi che abitiamo nella zona se ci tolgono i parcheggi è un problema. Non sono d'accordo o no, il problema è come faccio caricare e scaricare. è giusto per lavorare. Nel PUM si rientrano anche i parcheggi che andranno a superire quelle che sono le esigenze per la fruibilità del centro storico. Il centro storico verrà diviso in due zone, la zona rossa e la zona gialla, nelle quali sarà ovviamente chiesto ai residenti di parcheggiare e non più a caso. La pecche del parcheggio. Adesso invece ci spostiamo a Bari. Il mese di aprile vedrà l'avvio dei lavori a lungomare San Cataldo che diventerà pedonale. Cittadini divisi tra la sostenibilità e la necessità di porre rimedio al problema dei posti auto. Un'altra parte del lungomare di Bari si prepara ad essere pedonale. In zona San Cataldo il mese di aprile coincide con l'apertura dei lavori. Costo 5 milioni e mezzo di euro con chiusura a cantieri prevista nel 2025. Da un lato si vede di buon occhio la sostenibilità, dall'altro bisogna però fronteggiare il problema dei parcheggi auto. Ecco il parere dei residenti. Prima il posteggio delle macchine e poi la gente. Limitata come ora va bene, ma abolita al 100% non va bene. Qual è la cosa che temi di più? Un aumento di traffico dall'altra parte, sicuramente su Via Adriatico, scarica tutto su Via Adriatico. Da quella parte anche se fanno in modo che aumentano i servizi pubblici va bene, ma allo stato attuale con i servizi pubblici scadenti che abbiamo purtroppo la macchina ci serve. Io sono l'unico che usa la bicicletta, è bravo. Permetterà alle famiglie di venire a lungomare tranquillamente. C'è chi si preoccupa per le auto, dovrà mettere l'auto, lei cosa risponde a queste persone? Che è meglio lasciarle nel caraggio o al parcheggio le auto, assolutamente. Bari ha bisogno di cultura, è meno auto. Una cultura di sostenibilità soprattutto. Soprattutto quella, certo. Però dobbiamo fare in modo anche di trovare il posto per le macchine, perché è diventato un problema grave quello di Bari. Sarà più bello qui, sarà una zona più grande. Bari deve abituarsi a meno traffico di auto e motori? Sì, assolutamente. E nell'ambito del piano per la sicurezza arrivano 40 nuove telecamere di videosorveglianza a Bisceglie. 40 nuovi dispositivi di sicurezza, trani per la salvaguardia del valore sia paesaggistico sia architettonico del territorio, oltre che come deterrente rispetto al dilagante fenomeno della criminalità giovanile. Saranno dunque impiantate telecamere ed altri dispositivi per rafforzare la sicurezza in città, grazie ad un nuovo sistema di videosorveglianza comunale. Il progetto, candidato a finanziamento nell'ambito di un bando del Ministero dell'Interno, si ricollega al patto per l'attuazione della sicurezza urbana, siglato con la Prefettura della BAT. Lo ha deliberato la Giunta Comunale sulla base del progetto studiato dall'assessorato alla Polizia Locale. L'obiettivo è proprio quello di dare sicurezza, oltre che ovviamente consentire a tutte le forze dell'ordine di visionare questi impianti. Con i varchi abbiamo veramente debellato quei fenomeni di vandalismo che purtroppo si verificavano. Quindi la stessa situazione ora avverrà in Piazza Teatro, poi ovviamente i cinque varchi nel centro storico che abbiamo reso aria pedonale. Sarà monitorata la presenza di persone e controllati gli accessi dei veicoli nel territorio. Qualcuno parla di violazione della privacy. Abbiamo chiesto un parere ai tranesi. È un bene, per così c'è più controllo del territorio. Dato che ultimamente succedono atti di vandalismo, magari una copertura maggiore a livello di impianti di videosorveglianza, sarebbe un'ottima cosa. È un bene che si vengono messe le nuove telecamere, ma devono funzionare e devono servire allo scopo per cui sono messe. Le telecamere possono prevenire qualche malintenzionato che voglia fare delle smaggiassate. È un bene per la città, per il controllo. Chi non ha niente da nascondere, va bene così. Formazione, sviluppo e innovazione tappa Bari della Fondazione Ness. Tra progressi e nuovi obiettivi da perseguire fa il punto il rettore Francesco Cupertino. Puntare alla formazione dei giovani in ottica futura. A questo punta l'appuntamento, svoltosi al Politecnico di Bari della Fondazione Ness, un evento annuale alla presenza delle principali autorità. Fa il punto della situazione ai nostri microfoni il rettore del Politecnico di Bari. La forza di Ness è quella di essere riusciti a mettere insieme la migliore ricerca del Paese, delle università, dei centri di ricerca, delle imprese, per cercare di studiare insieme quali sono le soluzioni tecnologiche per le energie verdi del futuro. E questo è importante perché in Italia noi siamo grandi produttori di energia da fonte rinnovabile. Non siamo riusciti ancora a portare in casa la capacità produttiva e soprattutto innovativa. Cioè di determinare quelle che saranno le soluzioni che ci consentiranno di evitare, per esempio, nuove crisi energetiche nei prossimi anni. Come si fa a fare innovazione? Lo si fa partendo dai laboratori, lo si fa formando ragazzi e ragazze che abbiano la capacità di innovare e fare trasferimento tecnologico. La Fondazione Ness, con tutti i suoi partner, ha reclutato centinaia di giovani ricercatori che oggi stanno lavorando nei nostri laboratori, stanno sviluppando soluzioni innovative e che poi dovremo riuscire a far assorbire dal tessuto produttivo nazionale. Quella sarà la vera sfida del post-PNRR, di riuscire a trasformare questo grande sforzo di ricerca e formazione in capacità di innovazione delle imprese. Anche le piccole e medie imprese possono beneficiare dalla capacità di assumere giovani ricercatori, innovare e cercare di aggredire mercati rispetto ai quali prima non avevano possibilità di intervento. Il pubblico della cattedrale assolve Giuda Iscariota. Nelle ore della passione va in scena un vero e proprio processo in corte d'appello, con testimoni e dibattimento, incrociando ovviamente i Vangeli e la tradizione. Si conclude con la soluzione. Andiamo allora in cattedrale a Bari. La giuria popolare è composta dal Presidente, dalla Corte e poi dal popolo, che in questo caso è il pubblico in sala. È ascoltata la requisitoria del pubblico ministero e la ringa difensiva, il pubblico, cioè la giuria popolare, si pronuncerà per alzata di mano. Quindi vedremo chi sarà più convincente tra le due parti. Abbiamo anche Giuda in aula, inevitabilmente. Nelle ore della passione e del silenzio in cattedrale a Bari va in scena il processo a Giuda Iscariota. Il popolo lo ha assolto, almeno quello che ha assistito alla performance nata dall'idea di Francesco Minervini e del giornalista Onofrio Pagone, molto più che una rappresentazione, un vero processo in corte d'appello. E tra questi dodici fedelissimi è stato scelto Giuda Iscariota. Quindi Gesù, il figlio di Dio, non poteva sbagliarsi. Non poteva scegliere un traditore tra i suoi fedelissimi. Il ruolo di presidente della giuria popolare è affidato alla giudice Alessandra Angiuli, magistrato del Tribunale di Crotone. La pubblica accusa, sostenuta da Angela Tomasicchio, la difesa è affidata all'Orile Danalo Russo del Foro di Bari. Quattro testimoni e un dibattimento. Alla fine, 120 votano per l'assoluzione. Un processo non c'è mai stato e i Vangeli raccontano che si è andato a impiccare subito dopo aver tradito Gesù. È un modo per interrogare le nostre coscienze, è un modo per capire di più di quello che è accaduto. È ancora la tradizione, donazione di uova di Pasqua e da rate alimentari per anziani e famiglie meno ambienti della città. E questa è ancora un'iniziativa solidale che arriva dall'Associazione Colucci di Monopoli. Essere vicini con il cuore a chi si trova in una situazione di disagio è l'obiettivo dei volontari dell'Associazione Lilli Colucci di Monopoli che in due distinte occasioni, guidati dal presidente onorario e il barone Vito Antonio Colucci, hanno consegnato uova di Pasqua a tutti gli ospiti della residenza per anziani Regina Pacis della città del Sudbarese. Un momento di aggregazione e di festa che ha regalato una mattinata di divertimento accompagnata dalla musica ai nonni del centro metropolitano. Nelle scorse ore invece, nella sede dell'Associazione, sono stati distribuiti pacchi contenenti genere alimentari destinate alle famiglie che si trovano in condizioni di estrema difficoltà economica. L'Associazione Umanitaria Lilli Colucci, come sempre, dona le uova della Santa Pasqua ai bambini delle famiglie, diciamo, bisognose. E questa mattina daremo circa 100 uova ad altrettanti bambini che verranno qui nella nostra associazione. Parliamo di Welfare. L'ex asilo di Bitetto nel Barese è rimasto chiuso per oltre 40 anni e è diventato adesso un centro polivalente per anziani e disabili. È rimasta chiusa per oltre 40 anni, ma ora riprende vita accogliendo 40 persone con disabilità e 60 anziani residenti nella cittadina dell'Interland, del zone limitrofe. Il comune di Bitetto ha il suo nuovo centro polivalente. L'immobile, che accoglierà questo progetto di inclusione sociale, è lo storico ex asilo infantile che torna a vivere grazie all'amministrazione e alla cooperativa sociale Nuova Luce di Taranto che si occuperà di gestire la struttura e i suoi ospiti. Nell'edificio di Via Marconi, che per decenni è stato abbandonato a se stesso, verranno svolte attività a volte all'emancipazione, alla socializzazione e attività ricreative e culturali come laboratori di giardinaggio e musicoterapia. Come assessorata al welfare abbiamo finanziato con fondi europei quest'opera e probabilmente riusciremo anche ad aiutare la gestione stessa dell'opera. Siamo contenti perché questi presidi sociali nei territori sono importanti per dare serenità alle famiglie, ma per dare soprattutto quelle opportunità in più anche alle persone con disabilità piuttosto che alle persone anziane. Dopo tanti decenni di abbandono, di degrado, quasi come rudere, questo bellissimo immobile, che peraltro è un immobile di pregio, riprende vita, riapre le sue finestre e le sue porte nella sua forma migliore dopo un restauro veramente molto attento. Invece l'assessorato al welfare del comune di Bari apre un nuovo sportello di riferimento e ascolto per i più giovani. Un tempo è stata la sede di una banca, adesso è un nuovo spazio creativo e aggregativo nato grazie all'impegno congiunto tra Unicredit e l'assessorato comunale al welfare di Bari. Così nasce l'Hub, Laboratorio Adolescenti, che si propone di offrire diversi servizi e funzionalità. È uno spazio che verrà coprogrammato e coorganizzato con i ragazzi stessi, con adolescenti ma anche giovani e con chiunque si vorrà affacciare. Saranno presenti sia spazi d'ascolto, perciò lo sportello contro il revenge porno, per la prevenzione e le discriminazioni sull'orientamento di genere, sportelli d'ascolto psicologico per i ragazzi, laboratori e gruppi di mutuo aiuto, ma anche uno spazio di aggregazione pre-professionalizzante, con cineforum, momenti di gioco di ruolo, laboratori sull'educazione e all'affettività e quanto nascerà coinvolgendo tutti i ragazzi. Visto la buona collaborazione e i rapporti che abbiamo col Comune di Bari, abbiamo deciso, abbiamo portato avanti un progetto per assegnare, abbiamo dato in comodato gratuito al Comune di Bari questa filiale, questa ex filiale, con una finalità ben precisa, che è quella di svolgere dei posti, delle attività per i giovani. E adesso invece ci occupiamo di cultura, il 15 aprile la giornata internazionale dedicata al tema e anche Bari si prepara, grande riunione al Teatro Bravo che coinvolgerà diverse eccellenze. L'arte unisce e non divide e tutto questo in occasione del 15 aprile, giornata mondiale dell'arte sotto lo patricinio dell'UNESCO. Bari la celebrerà al Teatro Bravo alle ore 16 e 30. Vi saranno coinvolti tutti i movimenti, tutte le espressioni, dalla danza ai libri al jazz, senza dimenticare numerosi ospiti che si alterneranno, ognuno dei quali condenserà in una breve performance il senso della sua arte e il messaggio che essa sottente. Conduttore della serata Gianni Polito. Sarà un programma molto ricco che sicuramente in questo periodo così difficile sui conflitti anche internazionali restituisce la pace come atto di memoria attraverso la cultura. L'arte unisce e non divide e in questo momento noi abbiamo bisogno di unità. In primis, l'arte intesa come le nuove famose muse, l'arte della danza, della musica, del teatro, della poesia, del libro, del conoscerci. E quindi abbiamo racchiuso tutto in una giornata, 15 aprile, al Teatro Bravo, che ci ospiterà, concedendo ad ogni settore un quarto d'ora in cui gli artisti si proporranno e diranno quello che riguarda la loro arte. Per questa edizione è tutto, vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Grazie.